Due amiche quarantenni stavano passeggiando sull'argine del Gira Monticano quando davanti a loro, all'altezza degli impianti sportivi di Camino, si è presentato un uomo che ha abbassato i pantaloni mostrando le sue parti intime, per poi girarsi e andarsene. Erano circa le 11.30. Le due donne, vestite con comode e tute da ginnastica, hanno chiamato subito i carabinieri. Il Gira Monticano è un percorso frequentatissimo, soprattutto nel fine settimana, da persone di ogni età, ragazzini compresi. Secondo la testimonianza fornita dalle due amiche, l'uomo, di circa 35 anni con tutta probabilità italiano, era vestito con una tuta nera e un giubbotto scuro. In testa aveva un cappello e occhiali scuri. È stato astuto nello scegliere il posto, perché lì la visibilità è massima.